Morose ne ho avute tante, ma di morositas io vado matto. Morositas, moro per golosi di liquirizia. Morti tu. Provaci, non sbaglierai, con 7up non puoi perdere mai. Così fresca 7up, una scelta naturale. La tua sete è camera, la differenza è chiara, 7up. La differenza è chiara, 7up. Senti, senti questa, è sempre fresca perché in confezione ermetica. Certo. E' leggera. E' ricca di deliziose creme in soffice pan di spagna. Direi. E di tenta? Tre volte tanto. Certo, è fiesta. Fiesta di tenta, tre volte tanto. Fiesta snack Ferrero. Un brufolo? Un brufolo arriva in fretta. Ma oggi può sparire altrettanto in fretta, con il nuovo applicatore azione rapida Norma Dermi. Lo applichi alla comparsa del brufolo. In due o tre giorni il brufolo sparisce e tu ti senti molto meglio. Sì, l'applicatore azione rapida Norma Dermi in due o tre giorni fa sparire quel brufolo che ti dà tanto fastidio. Alta i brufoli, con l'applicatore azione rapida Norma Dermi. Chiedilo in farmacia. Alemagna presenta Krafen contro Krafen. E qui Krafen al bicocca. Cocca! Ecco Krafen al cacao. Cocca di questa albicocca! Eccati questa coccola al cacao! Krafen contro Krafen! E' scoppiata la lotta tra cacao e albicocca. A te tocca giudicare. Scegli il Krafen che ti pare. E' quel sapore che sempre tu cerchi. Nei tuoi piccoli grandi immormenti. Alecane. Così morbido, leggero, così fresco, davvero unico. Questo è il gusto di Alecane. Alecane. Unico come la tua fantasia. Alecane. Unico come la tua allegria. Questo è il gusto di Alecane. Un sapore di certi momenti non può che essere Alecane. Un giorno ti svegli e scopri intorno a te Emozioni, sensazioni, un fresco non so che. Lemon soda, lemon soda, fresco che viene, sete che va. Lemon soda, lemon soda, fresco che viene, sete che va. Big, big, big bubble. Mastichiamo, mastichiamo, mastichiamo big, big bubble. E facciamo, e facciamo, e facciamo big, big, boom. Il pallone, il più grande, lo fa questo pubblico. Sì, si vince un viaggio tra i leoni con il re dei gran palloni. Occhio all'incarto vincente. Big, big bubble. 20 viaggi safari in Kenya e 10.000 leoni morbidoni. Big, big bubble. Masada, 20 milioni di dollari. Il progetto più ambizioso mai prodotto per la televisione e interamente realizzato sui luoghi della storia. Canale 5 è orgoglioso di presentare l'avvenimento televisivo più importante della stagione. Masada, su Canale 5.